Ciao a tutti e bentornati nel mio canale! Oggi eccomi qua con un video veramente molto richiesto, infatti vi mostrerò due regali perfetti per ogni occasione. I meravigliosi oggetti che vi mostrerò sono realizzati entrambi da Mia Crystal Decoration che si occupa principalmente di personalizzazione con strass. Il primo oggetto che vi mostro è questa bellissima cornice al cui interno è realizzato un cuore con delle rose e sopra si trova scritto il mio nome con degli strass, Eli. Queste cornici possono essere personalizzate come ci piace di più, infatti Joana, la ragazza che si occupa della personalizzazione degli oggetti è veramente gentilissima e disponibilissima. Guardate che meraviglia! Un regalo con cui stupirete veramente tutti. Inoltre dietro è già stato inserito il gancio per appenderlo, come possiamo vedere qua. Invece l'altro regalo che vi voglio mostrare è questa bellissima tazza personalizzata. Si trova all'interno di questa bellissima confezione in cui sopra abbiamo il fiocco con le rose che davvero carinissimo. E ora andremo a aprire insieme questa bellissima confezione per vedere meglio la tazza. Ed ecco qua la bellissima tazza! Io l'ho fatta personalizzare con l'iniziale del mio nome, cioè la lettera E. Inoltre mi ha anche aggiunto una bellissima coroncina di strass. Nella sua pagina sono presenti tantissime tazze da personalizzare di tantissimi colori diversi. Poi all'interno della confezione troviamo una buonissima barretta di cioccolato e una bustina di tè. Due regali veramente graditissimi. Vi voglio informare che la tazza resiste fino a meno 10 gradi e a più 100 gradi. Ringrazio ancora Mia Crystal Decoration per questi bellissimi oggetti e vi consiglio davvero di andare a visitare la sua pagina. Ha davvero tantissimi articoli personalizzabili con strass meravigliosi, perfetti per ogni regalo. La ringrazio ancora per questa bellissima opportunità e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!